Fine settimana quello alle spalle, ricco di eventi sportivi, in particolare per le ultramaratone dove Enzo Taranto soprattutto, ma anche Fabio Sortino ed Enzo Tidona hanno confermato di avere pochi rivali. All'Etna Xtreme infatti la 100 km del vulcano Taranto è giunta al traguardo primo assoluto col tempo di 11.655, terzo posto per Fabio Sortino e quinto per Enzo Tidona a testimonianza di una supremazia indiscussa da parte del gruppo dell'associazione Noal Doping. Sempre nell'ultimo fine settimana si sono svolte anche le tre gare del Tour Terra e Bleco, location d'eccezione Scenari Mozzafiato. Su un percorso di 6 km, ad esempio la prima gara, Giuseppe Licita, anche lui della squadra di Taranto, si è piazzato al quinto posto col tempo di 23.52.32. Il giorno seguendo la seconda tappa su un percorso di 8 km, riccoati nei pressi del castello di Donna Fugata. Primo della Noal Doping, Giuseppe Blundo, arrivato decimo, tempo 34.25.42, mentre nella classifica generale del Tour, Giuseppe Licita si è piazzato al quinto posto e Giovanni Cascone all'ottavo. Tratiamo il turno, giuseppe Licita, anche la settimana con lerze diопасano il trend. Grazie a tutti.